contro quindi categoria 2013 finale enjoy cup tra w celeste e trasteve ricaccio diretta dal signor giugni donato di pescara partita per affrontarsi quindi trasferire in maglia celeste che attacca la sinistra verso destra invece per questa categoria della stessa società la messa dietro il tiro di marzilli morzilli in auto lungo battuto c'è morzilli due in barriera cavaliere e bernardini per musiu il tiro di morzilli palla che fa fuori cirillo il tiro palla che va poco alta su quanti la intercetta fava può per passi che lui attima la chiusura della difensore da tassi dietri verso fava riesce a girarla al meglio fa la scena a severi il direttore di gara bernardini verso il numero 9 cerca di girarci ancora per bernardini il tiro la parata la parata il estremo difensore zaccaria la zona d'attacco nulla da fare ancora frattarelli per cirillo la parata di musiu che dice no la parata per bernardini verso fava che non riesce a controllarla al meglio il numero 9 bernardini verso fava ancora poi c'è di dietri che non riesce a prenderla al meglio l'altra numero 9 il tiro il palo di fava poi bernardini ci può fuori cavaliere da dietro di dietri vila ancora fava altro palo può ripartire la W con cirillo il tiro di cirillo palla chi va fuori il tiro palla chi va alta ultimo giro d'orologio di dietri è la messa fuori di messa laterale per la traste grecate di dietri la mette in mezzo Pietro Cavaliere e il tiro ora che va in out deve secondo no dublice pischio del direttore di carazzulli si fa in pausa sul risultato dello 0 a 0 inizia il secondo tempo il tiro di bernardini altra traversa per la trastevere calcio cirillo è imbattuto il tiro parata di musico poi traversa può abbattere cirillo palla che fa fuori musico con le mani a severe non la deve prendere la deve fare ancora trastevere con il gol di Sami Filizzi 1-0 trastevere calcio quindi il portierone Zaccaria il tiro di bernardini palla che va fuori cirillo è imbattuto il tiro la parata di musico c'è morsillo che ci può provare sventata la minaccia schirinzi in avanti verso ventura che può andare via in avanti ancora c'è schirinzi con il tiro numero 28 che tiene ancora la palla in area il tiro ancora parata di Zaccaria 1-0 questo momento per trastevere calcio contro la WCLS sarà qualche cambio per il trastevere sta preparando qualcuno intanto schirinzi c'è a destra bernardini servito in questo momento ancora numero 6 che cerca di liberarsi dalla pressione degli avversari poi ventura e la parata di Zaccaria fa la messa in mezzo è tornato in capo Cirillo il tiro di Cirillo ma che gol ha fatto Alessandro Cirillo dal nulla decentratissimo uno a se verrà in possesso ventura cerca di andarsene può metterla in mezzo può metterla in mezzo Zoppi da lontano ma che gol il numero 32 Tommaso Zoppi bellissimo il 2-1 della trastevere 2-2 in barriera ventura e schirinzi il tiro di Cirillo palla che fa di pago alta per la trastevere calcio bernardini in avanti verso ventura ancora ventura cerca la girata per mandare il pallone in avanti presa schirinzi con il numero 31 poi la recupera bernardini che ci può tirare palla che va in out in battuta tira Cirillo palla tra le braccia di Musi un po' altro tiro e c'è il triplice pischio vince il trastevere calcio 2-1 contro la WCLS